Per costruire periferia intorno al santuario di Sant'Ubaldo, è il tema al centro dell'incontro in programma domani, venerdì, alle 18 all'hotel Beniamino Ubaldi di Gubbio, promosso dalla comunità di Capodarco e Gubbina con Don Angelo Fanucci per approfondire i temi e le prospettive della missione in Ecuador, in particolare a sostegno di una fondazione che in questi anni ha beneficiato anche dei contributi della comunità e Gubbina. Si chiama Fondazione Cristo della Cagli, che vuol dire Fondazione Cristo di Strada, dove Francisco Santacruz accoglie, il leader, poi è diventato anche presidente nazionale, è stato scelto di queste organizzazioni che accolgono bambini abbandonati. Bene, l'ultima cosa che stanno facendo, perché lui ha cominciato molti anni fa ad accogliere questi bambini in nome nostro, adesso stanno facendo la finca Ciudà di Gubbio, cioè azienda Città di Gubbio, 87 ettari di cui 15 a cacao, cacao di primissima qualità che viene, in cui i bambini di allora, diventati ragazzi, stanno costruendo un futuro per sé e per i bambini che Francisco continua ad accogliere in totale oggi fra bambini completamente abbandonati, sono circa 150. C'è la possibilità di conoscere da vicino per i giovani questa realtà attraverso il servizio civile? Sicuramente, anche perché il servizio civile, per il remunerato, sono 850 euro al mese, il pagato, il viaggio d'andata e di ritorno è anche un viaggio per tornare a metà servizio e tornare in Italia, quindi non è più il volontariato puro, però lì certo la gente si entusiasma perché dando una mano, sia nell'accoglienza dei bambini che la promozione di questa finca intitolata a Gubbio, finca vuol dire azienda, veramente ci si motiva. È uscito un nuovo bando, quindi adesso devono fare la selezione, ma appena è uscito il bando, in pochi giorni sono arrivate 700 domande, vanno selezionate per poter dire chi è più idoneo ad affrontare questo servizio. Adesso noi, con l'aiuto di voi, perché Don Angelo ha fatto una grande opera, ci ha aiutato a prendere questa finca per l'aiuto e il sostegno della fondazione Cristo la strada. Questa finca adesso lavoriamo per la coltivazione del cacao, il cacao nazionale fino a Roma, ma credo è il meglio di tutto il mondo, il cacao, però sono 15 hectare che vogliamo ampliare un po' di più, però adesso lavoriamo per questa cosa. Claro, i ragazzi che sono volontari per noi è una cosa fabolosa che hanno fatto fino a qua. Adesso, il prossimo anno, vanno otto giovani con noi e lavorano insieme a noi per l'aiuto diretta con bambini in difficoltà. Quando inizierete questo lavoro con questi otto ragazzi? Adesso stanno due italiani, quattro tedeschi, però in enero, in febrero, in gennaio, arrivano otto giovani italiani che lavorano insieme con noi in tutta l'attività della fondazione.